Buongiorno a tutti e benvenuti al canale Lippocamper e in questo tips vi faccio vedere come abbiamo installato il webbasto. Questo tips barra video è la prosecuzione di un video che ho fatto la scorsa settimana dove mettevo in evidenza le caratteristiche e gli errori compiuti in fase di montaggio relativamente al cinebasto. Abbiamo verificato che il cinebasto era particolarmente rumoroso, che aveva delle problematiche relative al fissaggio della marmitta, al fatto soprattutto che il pescaggio dell'aria fresca, quindi dell'aria da trattare, l'aria non calda, non trattata, veniva fatto dall'esterno che era la cosa che abbiamo ritenuto più grave, più importante e poi chiaramente un discorso relativo alla sicurezza che è sempre fondamentale prendendo un prodotto non certificato rispetto a uno certificato. A questo punto, in base agli accordi presi con i proprietari, abbiamo deciso di rimuovere il cinebasto e installare un bebasto originale. In questo video vi darò l'indicazione di tutte le caratteristiche e il modo in cui abbiamo installato nella parte esterna. Vi faccio vedere il montaggio completo e andremo poi all'interno, lo accenderemo e verificheremo anche il fatto che i flussi siano più o meno equilibrati, come abbiamo tendenzialmente sempre detto, quindi un 60 nella parte anteriore e un 40 nella parte posteriore, proprio per equilibrare le temperature dell'anteriore rispetto al posteriore, visto che in questo caso stiamo parlando di un semi integrale. Prima di fare ciò però iscriviti al canale, mettete un like, come al solito, sui video che vi piacciono e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Per quanto riguarda la posizione, la posizione è rimasta pressoché la stessa, abbiamo però interposto sulla parte inferiore del pianale una tavola in multistrato trattata con antirombo in modo da avere un supporto superiore. Chiaramente questa tavola è incollata e in più la cassa del bebasto che vedete qui è stata avvitata alla precedente tavola che abbiamo fissato per ridurre al minimo le vibrazioni trasmesse, abbiamo interposto una spugna in gomma, non è necessario questo, però l'abbiamo fatto sicuramente male, non fa. Come vedete qui abbiamo il tubo di pescaggio con il suo filtro, ecco qua che si può anche sganciare e viene messo in questa posizione, quindi è protetto, pesca verso l'alto. Nella parte inferiore, cosa molto importante di tutta la tubazione, sia di aspirazione, sia di fuoriuscire ai gas combusti, è necessario fare un forellino perché la condensa che si potrebbe creare, che si crea, deve essere espulsa e tramite un piccolo forellino cade all'esterno e quindi non intasa la tubazione. Per quanto riguarda il tubo di scarico, passa all'esterno verso il lato logicamente per spelle di gas di scarico verso l'esterno e abbiamo messo la marmitta per la riduzione del rumore ovviamente. Chiaramente questa marmitta, come vedete, non tocca assolutamente la struttura e questa è una cosa molto importante perché non potrebbe dar vita alla maggior rumorosità, alla maggior trasmissione delle vibrazioni, però è comunque importante isolarla. Abbiamo messo dei sealant block sia da un lato sia dall'altro isolata dalla struttura in modo che possa lavorare per conto proprio. Poi andiamo a vedere la parte anteriore di aspirazione, come avete visto, al contrario di come era il vecchio cinebasto, abbiamo aspirato all'interno, poi vi faccio vedere dov'è che andremo a pescare l'aria, quindi la peschiamo all'interno del veicolo, quindi abbiamo fatto un altro foro sigillato, mentre invece qua, io adesso non l'ho ancora coibentato per la verità, né questo né quello per farvelo vedere perché altrimenti non si vede, abbiamo diviso il tubo e quindi il flusso esce da 90, il tubo da 90 si divide in due da 80, un 80 si inserisce all'interno della vecchia tubazione, quindi l'abbiamo sfruttato allargando un pochino il foro, mentre invece l'altro va verso l'anteriore per servire direttamente la parte anteriore. Nella parte anteriore poi abbiamo fatto, devo dire, un lavoro di cui sono molto soddisfatto perché non solo è bello esteticamente ma sicuramente sarà molto funzionale, poi comunque lo proviamo insieme. Nella parte anteriore, quindi questa tubazione arriva fino alla dinette e poi si divide e alimenta e quindi riscalda tutta la dinette, la cabina di guida, la parte della cucina. Chiaramente questa andrà tutta coibentata perché è importantissimo che il calore che fuoriesce elaborato, diciamo, dal riscaldatore, il calore che fuoriesce perda meno temperatura possibile. È chiaro che si preferisce passare sempre all'interno del veicolo, ma quando non è possibile come in questo caso perché il veicolo è particolarmente piccolo, ci troviamo in mezzo il bagno che non ci consente, abbiamo sinceramente provato a passare all'interno ma non era possibile, quindi a questo punto l'unica soluzione è quella di passare all'esterno e coibentare completamente tutta l'adubazione. Poi come vedete entra all'interno. Per quanto riguarda la pompa state vedendo che è stata praticamente montata sul suo supporto, ma il supporto non è stato fissato a telaio ma è stato lasciato libero di oscillare con delle fascette. Ultima cosa che notate nella pompa, la pompa per ridurre tra l'altro il ticchettio, quindi ridurre quel rumore che molto spesso diventa molto fastidioso, soprattutto durante la notte, si mettono come da manuale questi due tubini a 90 gradi che consentono appunto uno smorzamento dei pacchetti di gasolio che vengono richiamati e quindi inviati verso il riscaldatore stesso. Questo per ora credo sia tutto nella parte inferiore. Adesso andiamo su, entriamo dentro il veicolo, intanto coibenteremo quest'ultima parte, entriamo dentro il veicolo e vi faccio vedere la distribuzione dell'aria come è stata fatta. Lo accendiamo e vediamo il risultato. Abbiamo portato il camper all'esterno, abbiamo terminato quindi il lavoro e l'abbiamo già provato. Il lavoro, devo dirvi, è stato molto soddisfacente e sono molto contento di quello che vi vado a presentare. Sono sicuro che il risultato sarà soddisfacente per i proprietari. Vi descrivo quindi come abbiamo lavorato e le bocchette che abbiamo utilizzato. Dunque nella parte posteriore abbiamo innanzitutto diviso il flusso in due, 50% e 50%, il 50% nella parte posteriore e l'altro 50% nella parte anteriore, con la divisione dei due tubi dal 90 ai due da 80. Quello da 80 servirà tutta la parte posteriore e ci siamo innestati sul precedente impianto. Questo porta non solo una, due e tre bocchette nella parte posteriore, ma ne porta un'altra nella parte anteriore, quindi praticamente leggermente meno del 50%. L'altro tubo, ovvero l'altro 50%, l'abbiamo trasferito tutto nella parte anteriore. Nella parte anteriore abbiamo messo una bocchetta sotto il tavolo, quindi sotto la dinette, due bocchette, un tubo, una tubazione che termina con due bocchette, una a 90 gradi, quindi sul tubo, quindi che da un 30% semplicemente sul gradino e l'altra nella parte terminale, che poi alla fine è quella che invia più calore. Inoltre, per dividere questo, per limitare un pochino il flusso, perché altrimenti era troppo, abbiamo cercato di dividere ulteriormente mediante due griglie fatte apposta, servite da un tubo di diametro inferiore, dovrebbe essere un 30 mm, di quelli che vengono utilizzati per le mansarde o per il perimetrale, lo state vedendo in questo momento, guardate come lo abbiamo realizzato, in modo che questo fornisca un calore molto più diffuso. Siamo sicuri che la zona anteriore verrà servita sicuramente in maniera corretta, davanti non sentiranno sicuramente freddo. Nella parte posteriore invece è rimasta la bocchetta sotto il gradino, la bocchetta del garage e quella che si trova in bagno. Abbiamo fatto la prova, abbiamo acceso, anzi facciamo una cosa, lo accendiamo insieme, facciamo in questa maniera, ecco qui, intanto adesso attenderemo, lo manderemo a regime, metteremo in temperatura, ad alta temperatura, in modo da raggiungere la massima velocità delle bocchette, ma comunque già vi do l'indicazione della velocità. Noi abbiamo nella parte posteriore del garage abbiamo un 10,2, ricordiamoci che la velocità misurata con l'anemometro, questo è settato in chilometri orari ma in nodi è la stessa, considerate che la dimensione delle bocchette è la stessa, quindi non abbiamo problemi, la velocità è pari, è proporzionale alla quantità di calore emessa dal riscaldatore, quindi possiamo tranquillamente gestire il concetto della ripartizione del calore in maniera proporzionale, quindi se sommiamo il 10,2 che è la velocità del gavone, al 8,5 che è questa bocchetta sotto il gradino, alla 6 che è all'interno abbiamo circa un 25, nella parte anteriore invece abbiamo un 9,1 sotto il frigorifero che invia aria verso la porta di accesso, un 13 e un 7 che fa un 20 nel gradino e in più abbiamo sotto un 23 che è una bocchetta praticamente diretta che invia tutto il flusso nella parte inferiore del tavolino, in totale facciamo circa 52, quindi abbiamo un 25 su un 52, sostanzialmente il 52 è il doppio del 24, il 25, quindi siamo come concetto a un terzo, quindi un terzo viene fornito, quindi un 30% viene fornito nella parte posteriore, mentre invece un 70% viene fornito nella parte anteriore, siamo un po' magri nella parte posteriore, andremo un attimo a valutare in base all'ambiente che si formerà e al comfort che le persone, gli occupanti percepiranno, andremo probabilmente magari a cambiare qualcosina, ma io credo che sinceramente anche un 30-70 per un veicolo del genere sia assolutamente più che sufficiente, ok? Attendiamo quindi che i clienti ci diano il loro risponso. Per oggi quello che vi volevo trasmettere è il seguente concetto, anzi i seguenti concetti, dispositivi certificati e installati da personale qualificato, lo so che sembra una banalità, ma alcune accortezze si hanno solamente se si ha l'esperienza e se si ha un certo tipo di formazione che è dovuta al tempo e all'impegno, quindi mi raccomando seguite sempre personale qualificato, ok? Per oggi credo sia tutto, se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale, andate a vedere anche i video precedenti e condividetevi con i vostri amici e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo e come al solito ci vediamo alla prossima.